la stazione ma come mai c'è questa questo buco di diciamo qua se vai a reggio emilia in centro o la bologna diciamo io ti parlo di una stazione di alta velocità questa è una stazione di trance non è una stazione capodronco come bologna come milano però tipo magari adesso se uno ha bisogno di prendere un treno potrà migliorare questa situazione dipende dai viaggiatori ci viaggia dalla critica che ci scrive da noi ci lavoriamo